La mia pianticella è nata con la terra, grazie ai temini, e la terra, e l'acqua, e poi sono nate le lenticchie, volevi dire le tante, le lenticchie, e anche queste le fogliorine. Fammi vedere come hai fatto, perché Nicola prima non c'era, vero? Ho preso la terra, cioè l'ho messa dentro, ho messo per volta, ho messo l'acqua, e poi i temini l'ho nata tanto, poi un giorno è nata la pianta.